Vi hanno portato via tutto e voi manifestate a Roma in una piazza con quel pseudogruppo chiamato Re Sardine per un fatto di cronaca successa negli Stati Uniti in nome del rassismo. Rassismo? In Italia non c'è rassismo. O meglio, gli unici discriminati sono gli italiani poveri. Prova ad andare al tuo comune di residenza dicendo sono disoccupato, c'ho un bambino piccolo, anche mia moglie non lavora. Mi potete pagare questa bolletta del gas? I servizi sociali e le SS del comune arrivano un giorno dopo e ti portano via il figlio perché sei povero, perché non puoi mantenerlo. Questa è l'unica discriminazione che c'è in Italia, che se sei italiano il sistema ha regole d'ingaggio che non ti dà un euro. Manifestate per questo. Vi hanno portato via tutto e il meglio deve ancora venire. Vi staranno già organizzando una bella festa e i vostri politici burattini, burattini proprio dei potentati che sono negli Stati Uniti, sanno bene come organizzarvi, come organizzarsi per darvi il colpo di grazia. Io pregherò per voi, poveri giovani, ma se non fate una sana rivoluzione, siete tutti fottuti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E così sia.